Ciao a tutti, sono Matteo da Cambiago. So che siamo vicino a questa specchiera perché so che molti di voi stanno aspettando il mare, ma ancora più gente invece vuole vedere la nostra Area Selected. Perché vi sto dicendo questo? Perché nell'ultima edizione delle novità settimanali vi abbiamo brevemente accennato dell'Area Selected appunto. Vorremmo spiegarvi un pochino più di cosa si tratta. Adesso con Giada ci trasferiamo proprio nell'area, così nel frattempo vi dico che appunto abbiamo creato questa parte di magazzino che prima era dedicata a dei mobili vari, qui c'erano, mi sembra, cassa panche, piccole console. Abbiamo inserito dei prodotti ricercati che sono stati selezionati dai nostri esperti per tenerli un pochino più differenziati dal resto del magazzino perché il magazzino è molto ampio, sono praticamente 4-5 cappannoni pieni di mobili e soprattutto la ricerca del cliente che viene qui fisicamente diventa un pochino più complicata. Invece mettendo appunto in questa piccola area i nostri prodotti Selected si ha una visione un pochino più chiara appunto del mobile di cui si è alla ricerca. Ad esempio, vi abbiamo fatto già vedere il cassettone Lombardo, qualche console, l'altra volta l'abbiamo già arricchita questa parte, ad esempio con questo scrittoio barocchetto Lombardo, Lombardo molto particolare. Facciamo ancora giusto una carrellata già, visto che si è aggiunta roba. C'è questa credenza barocco bolognese, questa credenza reggiana, io vi faccio vedere. Poi tutto quello che vedete nei video vi ricordo perché magari nelle ultime video che abbiamo fatto magari non siamo stati molto chiari. Quello che vi facciamo vedere nei vari video delle novità è tutto già acquistabile, quindi sono semplicemente prodotti che non sono online, ma potete già richiedermi acquistare. Infatti nell'ultimo video già parecchi prodotti sono stati venduti, quindi chiedetemi e vi posso aggiornare su tutto quanto, restauri, spedizioni, eccetera, eccetera. Proseguiamo, qui abbiamo altre due console, un tavolino da centro francese, guardate che ho mai ricercato. E appunto inseriamo prodotti rari, che si fa difficoltà a trovare, come ad esempio questa coppia di console barocco lombarde, diciamo che la coppia di questa qualità è una rarità. Questi li abbiamo già visti l'altra volta, questa è una parte di un arredo completo invece, già da qui alle tue spalle, che per ora abbiamo qui solamente divano e poltrone. Niente, ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi alla nostra pagina e di mettere like. Da dove nasce l'idea di Selected? Nasce dal fatto che online sul nostro sito ormai riuscite a selezionare qualsiasi cosa, divisa per aria, modernariato, antiquariato, arte, e esiste già da tempo l'area Selected, quindi la possibilità di vedere tutti insieme questi prodotti. Per chi invece viene direttamente qua nei nostri magazzini, magari quando ci sono magazzini aperti, il problema è proprio trovare questi prodotti nella quantità che abbiamo a disposizione e quindi vi diamo questa possibilità di trovarli già tutti messi qua, tutti raggruppati. Vi ho detto di magazzini aperti perché? Perché sabato e domenica ci saranno magazzini aperti, che è questo particolare evento che facciamo in cui si può accedere direttamente ai magazzini e non solo nella parte fisica di negozio. E quindi dalle 10 alle 19, sia sabato che domenica, con l'area continuato, vi aspettiamo a Cambiago. Vi saluto e ci vediamo tra qualche giorno per le prossime novità settimanali.